Una mozione popolare per migliorare la vivibilità del quartiere Belvedere a Battipaglia. Nei giorni scorsi è partita la raccorta di firme. Le ragioni che hanno spinto i cittadini all'azione sono rinchiuse in una dichiarazione dei componenti del quartiere. Belvedere rappresenta il quartiere più popoloso di Battipaglia. La presenza di strade estremamente trafficate produce altresì un grave inquinamento da polveri sottili, tanto che Belvedere risulta il quartiere più inquinato di Battipaglia, come si evince dall'ultima indagine dell'ARPAC disponibile che risale al 2010. Non solo perché il quartiere soffre di carenze urbanistiche profonde che si traducono in una significativa mancanza di vivibilità. Tra queste è l'assenza di una villa comunale, di una piazza e di spazi di aggregazione, ma anche di infrastrutture come scuole superiori. Per questo quindi i firmatari hanno chiesto all'amministrazione comunale un intervento per procedere all'attuazione immediata della variante urbanistica per il verde, nonché alla realizzazione di una villa comunale, al fine di dotare il quartiere di un'area di svago e di aumentare la quantità e la qualità del verde pubblico. Al contempo la mozione propone di non rilasciare permessi a costruire per il prossimo futuro, prima della realizzazione effettiva della villa comunale, e ancora di procedere alla messa in sicurezza di via Belvedere, con urgente rifacimento del manto stradale, della segnaletica orizzontale e verticale, con l'installazione di rivelatore ottici di velocità in ambito urbano, e con la messa in opera di uno spartitraffico e attraversamenti pedonali. Chiesto anche di controllare tutto ciò che riguarda la sicurezza, e anche l'istituzione di un presidio di polizia locale da istituire nel quartiere, che dovrà essere dotato di collegamenti alternativi con Bellizzi. Infine, la messa in sicurezza dei marciapiedi nei pressi della scuola Kennedy.